Tenere lontani i clan dell'Andrangheta dai lavori del porto turistico di Paola, questo lo scopo del protocollo d'intesa che sarà firmato domani alle 11 tra la prefettura di Cosenza e i vertici della Marina di San Francesco di Paola S.P.A. che gestirà i lavori dell'opera. Un'iniziativa intrapresa dal prefetto di Cosenza Raffaele Cannizzaro allo scopo di monitorare le fasi di costruzione, gestione e manutenzione della nuova struttura portuale del comune paolano. Un protocollo di routine, dicono dalla Società Marina di San Francesco, che si sottoscrive per tutte le grandi opere infrastrutturali. I lavori del nuovo porto turistico dovrebbero cominciare entro l'anno. Ancora ci sono gli ultimi passi burocratici ed amministrativi da compiere. La struttura sorgerà sul tratto di mare antistante, il lungomare di Paola, a ridosso della stazione ferroviaria. Un'opera che prevede ben 658 posti barca, con ben 49 posti riservati a natanti pari a 20 metri di lunghezza. Non mancheranno poi ristoranti, parco giochi per bambini e tutto ciò che possa rendere usufruibile ed accogliente la struttura. Insomma, un'opera importante è posizionata in una città come Paola, centro di smistamento e di contatto tra basso e alto tirreno. Ragioni in più per proteggerla dalle infiltrazioni dei clan, da sempre interessati alle opere pubbliche importanti che sorgono in Calabria, anche a costo di bloccarne o allungarne i tempi di costruzione, pur di curare i propri interessi. La 3 Salerno-Reggio Calabria ne è un esempio.